Dalla Siria all'Iraq, dalla Palestina al Libano. L'età media di molti paesi medio-orientali e 22 anni. Giovani che faticano anche solo a immaginarlo un futuro perché il presente è fatto di guerre, conflitti e povertà. Tante sono le barriere, spesso tutte queste persone, sia giovani che donne, hanno altissimi tassi di disoccupazione. Spesso sono rifugiate, quindi sono anni, diciamo, dentro questi campi senza una prospettiva di futuro. Si sta cercando in qualche maniera di cambiare un pochino la loro vita attraverso piccole attività. Bottega artigiane e attività anche rivolte ai giovani per far sì che si riattivino attraverso anche un dialogo tra loro. Si tratta di 21 diversi progetti lavorativi promossi da Foxiv e Caritas Italiana e sostenuti da TV2000 e MBlu2000 che oggi sono impegnate in una maratona TV e radio per raccontare l'iniziativa e invitare a donare al 45582. La nostra campagna vuole sostenere progetti che diano un futuro ai giovani. Quindi istruzione, formazione, lavoro, piccola impresa, in modo da far crescere relazioni economiche, relazioni sociali, da fare assieme e quindi non in maniera divisa tra diverse popolazioni e diverse etnie, creando quindi ponti di pace. Attraverso la solidarietà e il lavoro si può creare la pace. Con il pensiero rivolto anche all'Europa. La guerra dell'Ucraina sta aprendo un altro fronte, quindi quanto mai è necessario essere artigiani della pace, cioè lavorare per cercare in qualche maniera di contrastare questa ondata di male che sta purtroppo uccidendo tante persone.